di affermazione di una parte della componente A o piuttosto che della componente B, ma devono lavorare pensando che abbiamo un patrimonio di consenso da gestire e abbiamo soprattutto una eredità di problemi da risolvere e di situazioni da difendere. E allora la divisione non serve a nessuno, i cittadini hanno sempre bocciato coloro che hanno lavorato per dividere, ne abbiamo avuto dimostrazione nel passato, per cui concludendo questo ragionamento io dico che è meglio lavorare per unire ed è meglio lavorare per la città e per l'interesse comune piuttosto che lavorare magari da dietro un muretto a secco per dividere oppure per godere delle divisioni lasciando poi alla gente soffrire dei problemi e lasciando l'amarezza nei partiti e la consapevolezza di avere una classe dirigente che non è capace di assolvere del proprio dovere. A proposito di queste sue ultime affermazioni, il capogruppo del PDL ha affermato che le attività del comune verranno bloccate e quindi non si lavorerà più in commissione. Lei che ha sempre improntato la sua politica sul dialogo, come può dialogare con questa spada di Damocle sulla testa? Io lavoro come sindaco tutti i giorni e tutto il giorno, la Giunta lavora con me, gli uffici lavorano perché chiaramente vanno avanti, come si suol dire, a prescindere perché ci sono tante cose da fare. Un ruolo importante nel sistema politico lo svolgono le commissioni e lo svolge il Consiglio Comunale, che poi sono state le commissioni e il Consiglio Comunale demandate a svolgere questo ruolo fondamentale di costruzione anche dell'attività amministrativa, della pianificazione dell'attività amministrativa. Io ho sconsigliato e ho criticato sempre il fatto di ricorrere al blocco dell'attività amministrativa per forzare i tempi di una decisione politica perché significa intanto mettere in secondo piano gli interessi dei cittadini e questo è sbagliato a prescindere perché ci può essere sempre il confronto politico sui temi politici, di assetti, di bilanciamenti, ma senza mortificare l'istituzione consigliare che è, ripeto, l'espressione più alta della democrazia partecipata. E noi abbiamo tanti progetti che come Giunta abbiamo come assessori, come uffici, abbiamo elaborato e che aspettano un pronunciamento delle commissioni consigliari, per esempio il piano di Pitulongu, per esempio il piano di riqualificazione del centro storico e del centro matrice, per esempio tutto ciò che attiene alle pianificazioni urbanistiche, tutto ciò che attiene alle pianificazioni relative ai lavori pubblici, tutte le sollecitazioni che devono e possono arrivare dai lavori delle commissioni consigliari attraverso i regolamenti e dopodiché il consiglio che è il momento deliberativo, il momento in cui la classe politica, in questo caso di maggioranza e di opposizione, si confrontano per approvare dei progetti che possono consistere nella riduzione delle tasse, dei tributi, che sono quelli poi dell'approvazione definitiva dei piani urbanistici, delle lottizzazioni che possono dare boccate di ossigeno ad un'economia asfittica, per cui pensare di bloccare l'attività amministrativa, secondo me è un atto poco responsabile, proprio per questo. Cambiando argomento, i finanziamenti per l'Aul di Assassari sono scomparsi, in questi giorni ci saranno molte iniziative, stasera c'è una riunione in provincia e venerdì vi sarà una manifestazione pubblica ad Oscheri. Il Comune di Olbia parteciperà a queste iniziative e se sì, come? Allora, io fin dal primo momento mi sono tenuto in contatto ovviamente con tutti i sindaci del territorio, all'indomani della notizia ho preso contatto con i sindaci e fra questi con i sindaci, il sindaco di Oscheri Perinu, con il quale abbiamo concordato per esempio la manifestazione di venerdì, una manifestazione che era stata già organizzata nelle settimane precedenti e che purtroppo per il cattivo tempo era stata sospesa. I sindaci del territorio, al di là delle colorazioni politiche, sono tutti impegnati nel testimoniare la forte critica al governo. Personalmente ne ho parlato con il Presidente Ugo Capellacci, so perfettamente che il Presidente Capellacci domani deve andare a Roma per parlare con il Presidente Berlusconi e io mi auguro che sia un incontro che possa portare buoni frutti e di conseguenza su quelle che sono le partite che interessano il territorio e l'affermazione di quelli che sono i diritti di tutti noi cittadini olbiesi, galluresi, del nord Sardegna e di tutta la Sardegna, io credo che ragioneremo da sindaci, per cui da rappresentanti di tutti i cittadini, al di là delle colorazioni politiche, rappresenteremo un'unica voce, per cui non sono e non devono essere, di questo abbiamo parlato con i sindaci del territorio delle manifestazioni targate, devono essere manifestazioni con un grande coinvolgimento istituzionale e popolare, ciascun sindaco lo fa secondo le proprie capacità, le proprie disponibilità, noi lo facciamo coinvolgendo comunque a tutti i livelli la popolazione e facendo sì che sia ben chiara e sia ben chiaro il fatto che io come sindaco di Olbia, pur appartenendo al centro-destra, sono pronto a scendere in piazza, sono pronto a far sentire la mia voce e il peso del territorio che io rappresento a tutti i livelli, a prescindere da quale partito e quale Presidente del Consiglio ci sia, proprio perché i diritti dei cittadini e soprattutto il rispetto degli impegni vanno prima di ogni altra cosa. Quali sono le priorità della città di Olbia oggi come oggi? Intanto la grande iniziativa del G8 che va gestita in maniera corretta è nel rispetto delle esigenze della città di Olbia per quanto ovviamente compete alla città di Olbia, questo è uno dei motivi per cui è necessario non sfasciare tutto.